Ragazzi, io su Jaguar Man ho un'opinione molto netta, peraltro è anche una brava persona perché ci mette la faccia, dice le cose, non ci gira attorno, accetta il confronto, certi scappano, quindi Allora, dite, vabbè, intanto, un flash, quel ragazzino che ha detto lì sulla 166, non andarlo a dire al Gazi, se no sai com'è, va bene, dai E poi vabbè, i tuoi ospiti hanno parlato tutto il tempo di Alfa Romeo, hanno smentito loro stessi, hanno contraddetto loro stessi, tant'è vero che ti hanno già detto facciamo un gruppo di pulizie, non facciamo un gruppo di Jaguar, dette in soldoni Poi si vedeva che vi eravate messi d'accordo, avete fatto un accordo, era tutta programmata l'intervista, io sono un giornalista, le conosco le regole della comunicazione, si fa finta, ma in realtà era tutto concordato Tra l'altro, il sospetto nasce, ti spiego perché, ma te lo dico in amicizia senza offenderti, cioè, qui c'è un'azienda di pulizia che viene sempre chiamata in ballo, di cui tu hai un negozio che vendi saponi per lavare i pavimenti, non so cosa vendi E guarda caso, avevi fatto una live con delle persone che facevano parte di questa ditta di pulizie, e questa ditta di pulizie collabora con un magazine che esce in edicola Allora come la mettiamo? Allora vedi che c'è un conflitto di interessi, vedi che c'è il sospetto, vedi... Poi dopo, ah, mi hanno rifiutato, sì, certo, perché vuoi fare il prezioso, capito? E' certo che tu, a noi utenti, non vuoi dare l'immagine di essere un prestolato, ma in realtà lo sei, in realtà lo sei e come in realtà lo sei, non vuoi dare l'immagine di essere un presto, ma in realtà lo sei, in realtà lo sei, in realtà lo sei, perché dal Signore